Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming. In questo video vi spiegherò come risolvere il blocco dell'Esplora Risorse in Windows 10. Se di recente, dopo degli aggiornamenti, riscontrate questo problema che mentre magari navigate su internet, giocate o fate qualsiasi altra attività, l'Esplora Risorse si blocca improvvisamente, una delle possibili soluzioni che con me ha funzionato è quella di utilizzare il prompt dei comandi, quindi cmd, per fare la scansione del sistema e verificare se ci sono degli errori e sistemarli. Quindi andate su Start, digitate cmd, tasto destro, esegui come amministratore. Da qui digitate sfc slash scan now, ossia effetto alla scansione adesso dall'inglese, e premete invio sulla tastiera. Come vedete partirà l'analisi del sistema e se ci sono dei problemi, sicuramente ci saranno se l'Esplora Risorse si blocca, verranno risolti. Al riavvio del computer dovreste aver risolto definitivamente questo problema. Se il video vi è servito, cliccate sul pollice in alto, iscrivetevi al canale per supportare Tech Gaming e per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento.